Una figura professionale innovativa specializzata nel settore della mobilità. In tre parole, Personal Car Shopper, un consulente esperto nel campo delle auto che basa la sua attività sulla capacità di ascoltare le esigenze del cliente e di tradurle in soluzioni realizzate su misura. Un professionista altamente qualificato grazie ad un master interdisciplinare organizzato dalla Confederazione AEPI, le associazioni europee di professionisti, e dalla FEPEX, acronimo di Federazione Nazionale Personal Car Shopper. Il percorso formativo è stato presentato a Roma nel corso di un incontro organizzato nella prestigiosa Sala Caduti di Nasseria del Senato della Repubblica ad illustrare i contenuti del master, quello che è stato l'ispiratore di questa nuova figura professionale. Tony D'Ambrosio. Oggi il cliente, non ti chiede più, voglio quella marca, quel modello. Oggi il cliente ha bisogno di chiarezza in un mercato che è assolutamente confuso in totale metamorfosi, sia nella tecnologia, nel passaggio all'elettrico, all'idrogeno, ai nuovi carburanti, quelli ecologici, non si capisce molto. Bene, oggi proprio il mercato che chiede è la presenza di un consulente informato e formato, che studi, che sia capace di dare delle risposte istantanee a tutto tondo. Una nuova opportunità lavorativa nell'industria automobilistica in grado di creare importanti sbocchi occupazionali è una crescita del settore, come sostenuto anche dal sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon, una figura professionale che sta già suscitando grande interesse in un periodo di profondi cambiamenti per il mercato. Il mercato è pazzo, il mercato è pazzo e ha bisogno sempre più di certezze. Ecco, queste certezze secondo me il mercato le trova nella figura del personal car shop perché comunque è una figura di riferimento, nel senso che è una persona formata, capace di dare indicazioni corrette, capace di rapportarsi col cliente che è il suo unico e vero interlocutore perché lui lavora a fianco del cliente come fosse il cliente finale e poi va a individuare la soluzione migliore ovviamente per far sì che la macchina venga acquistata.